Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Intorni Show. Dopo avervi parlato tutto sommato di esseri abbastanza classici, di esseri che so, diciamo per i quali so che non ci sarà troppa polemica, troppo interesse, oggi è il momento di alzare un po' l'asticella e quindi di parlarvi di alcuni esseri molto particolari all'interno del mondo muslim ed in particolare degli esseri per i quali io onestamente avevo un'opinione prima di fare questo articolo, poi mi sono messo a riflettere, bene a pensare e li ho iniziati ad associare a più cose diverse alle quali io prima non avevo pensato onestamente. Quindi vi anticipo fin da subito che questo articolo è un articolo fatto da me tentando di essere il più corretto possibile eccetera però ho provato a trattare i Jin pur essendo presenti nel Corano e tutto come delle creature, tutto sommato, più o meno come altre quali possono essere folletti o cose di questo genere che non sono specifico, fin da subito, sono una cosa diversa però li ho trattati da questo punto di vista qui e quindi spero che nessuno si offenda anche io sono musulmano eccetera però appunto spero anche di essere il più corretto e oggettivo possibile in maniera tale che l'articolo possa essere goduto da tutti sia da chi diciamo ci crede proprio per fede sia da chi magari diciamo ci crede di meno oppure non ci crede proprio perché di un'altra fede eccetera di qua e di là ci tenevo a fare questa precisazione perché poi non sia mai che mi venga qualcuno a dire ah ma tu hai detto questo eccetera e come mai io quando parlerò di cose citate nel Corano dirò questo è proprio raccontato nel Corano quando parlerò di altro vi dirò altro ho fatto questa premessa proprio perché conto di trasferirmi in Marocco e so che l'86% dei marocchini ci crede non un po' ci crede proprio tanto assai a queste cose qui quindi a maggior ragione bisogna prendere tutto con le pinze partiamo dalle cose più classiche, più concrete, più sicure ovvero chi sono questi jean? i jean sono una serie di esseri, una sorta di famiglia più o meno come possono essere gli umani, gli angeli ma che a differenza dei primi che sono originati dalla pura luce divina e a differenza di noi uomini che siamo generati se non mi sbaglio dalla terra, dall'argilla o una cosa di questo tipo questi esseri, i jean, sono generati dal fuoco e questo infatti è uno dei motivi, così diciamo subito per i quali Iblis, ovvero il diavolo shaitan si rifiutò di inginocchiarsi perché lui ricevette prima l'ordine di non inginocchiarsi a nessuno che fosse a lui inferiore per essere chiari o che comunque non fosse Dio e quando poi arrivò l'ordine di inginocchiarsi tutti davanti invece a questi uomini fatti da argilla lui disse, no io sono fatto di ferro, cioè di fatto di fuoco non posso inginocchiarmi e da qui tutta la creazione di fatto del diavolo eccetera come vedete noi è più semplice rispetto alla mela quello che si trasforma eccetera questo qua gli ha detto, oh inginocchi ti dice no perché io sono fatto in un altro materiale ah ok quindi sei dannato per sempre questo sostanzialmente però appunto Iblis, shaitan, è un jin infatti noi diciamo no quello non c'entra in niente scusate ah il shaitan è un jin lì ho sbagliato proprio citazione citavo sura fatica perché mi sembra che si parli anche di cioè si parla sicuramente di shaitan non mi ricordo se viene detto jin oppure no fatto sta non è una cosa non è una lezione di religione quindi non ci interessa quell'aspetto lì comunque i jin sono presenti fortissimamente nel corano sono presenti fortissimamente in tutta la rivelazione coranica tanto che esiste una sura che si chiama sura jin tanto che si dice che il profeta convertì moltissimi jin all'islam e quindi questi diciamo divennero buoni addirittura si dice che Salomone ci fu un jin che lo voleva aiutare però appunto non ci riuscì per tutta una serie di problemi però lo stesso Salomone era un dominatore di jin e lo stesso Salomone si rivolse proprio a diversi di questi jin per sapere per fare eccetera quindi questo diciamo per quanto riguarda l'aspetto religioso diciamo anche che ecco per quanto riguarda l'islam non sono come dei diavoli che sono necessariamente cattivi non sono come dei folletti magari che sono per forza cattivi ma sono delle entità che sono esattamente come noi gli esseri umani quindi possono essere buone, cattive possono interessarsi della religione, non interessarsi avere figlie, avere rapporti sessuali anche tra l'altro questo con esseri umani e la loro caratteristica principale è appunto quella di essere di fuoco e quindi di vivere in un'altra dimensione rispetto alla nostra una dimensione nella quale noi non possiamo accedere ma loro si è noi e quindi diciamo che noi non possiamo vedere fisicamente un jin a meno che lui non scelga tutta una serie di metodi particolari che non sto qui a spiegarvi perché sennò si fa notte davvero ma diciamo che lui può scegliere in qualche maniera di apparire sia o con il suo corpo oppure no però noi non possiamo scegliere di vedere un jin ok? o è lui che proprio è oppure non c'è possibilità perché è posto proprio a un altro livello di con non consapevolezza ma di neanche di sensi però diciamo più o meno questo cioè non c'è possibilità di osservarlo né di sentirlo né niente i jin però come vi dicevo non sono necessariamente cattivi non sono sono diversi alla fine jin vuol dire occultare se non mi sbaglio e che infatti si fa caso a quello che ho detto io due secondi fa ma in generale un jin per essere chiari è uno spirito questo spirito tra l'altro questa è una cosa che dipende molto dalle varie tradizioni con le quali hai venuto a contatto può ad esempio possedere dei corpi può fare dei rumori può agire facendo proprio delle cose pratiche e può anche comportarsi semplicemente come un essere umano per essere chiari il jin che doveva aiutare Salomone doveva aiutarlo a portare il trono perché quel jin lì era particolarmente forte particolarmente robusto e resistente e quindi doveva fare quello tra l'altro vi segnalo anche che all'interno dei jin ci sono poi due differenze due diverse famiglie almeno ma forse c'è anche qualcun'altra che non ho trovato io ma se invece ci dovesse essere avvisatemi perché mi interessa ovvero gli Ifrit e i Marid i Marid sono delle sorti di jin in realtà non c'è una grande differenza fra i due sembrerebbe che fra i due gli Ifrit siano ancora più potenti rispetto ai Marid che comunque diciamo sono più forti diciamo così del jin normale della forma base però francamente non ho trovato abbastanza informazioni da poter dire con esattezza quale sia la differenza diciamo che si prevale che le fonti che io ho trovato che sono tendenzialmente wikipedia e qualcun'altra ancora tendeva a qualificare l'Ifrit come un jin un po' più forte però non è specificato esattamente perché il Marid invece dovrebbe essere diverso Marid viene da un'altra da un'altra radice in realtà che vorrebbe dire tipo il ribelle però è anche vero e questo lo faceva notare allo stesso articolo che ogni qualvolta si nomina la parola o Marid o Ifrit si nomina insieme a jin quindi la caratteristica fondamentale è comunque sempre quella di essere un jin e poi può avere delle altre cose diciamo che appunto è meno importante questo e niente io perché appunto è un po' particolare parlare di jin perché i jin in realtà ci sono tutta una serie di particolarità che non vanno che non sono dette ma che sono molto importanti e secondo me sono uno dei motivi principali per i quali queste figure sono diventate poi man mano nel tempo anche così importanti all'interno del mondo islamico perché come vi ho già detto prima l'86% dei marocchini ci crede ma proprio per davvero cioè può testimoniare di aver osservato un jin o cose di questo tipo moltissimi egiziani lo stesso moltissimi turchi lo stesso moltissimi abitanti del Bangladesh lo stesso bengalesi quindi ed è una credenza molto diffusa onestamente la particolarità in realtà è che i jin non sono menzionati negli articoli della fede per chi lo sa per chi non lo sappia l'islam ha cinque pilastri ok che sono appunto testimonianza di fede ha la preghiera ha il digiuno mi sembra che no il terzo è la zakat sì il quarto è il digiuno e poi c'è il pellegrinaggio queste sono le cinque cose per le quali tu se non le fai non sei musulmano per essere chiaro almeno diciamo la prima la devi fare se no è proprio impossibile ma all'interno degli articoli di fede in realtà e io questo quando l'ho letto mi sono un po' sorpreso quindi sono andato a cercare non è previsto gli articoli di fede quindi intendo dire la shahada quando tu dici ho testimonio che c'è questo c'è questo c'è questo e non c'è quest'altro non viene proprio fatta menzione dei jin zero gli angeli sì questa è una cosa molto importante ma i jin no e questo secondo me va a legarsi un po' anche con tutto un atteggiamento che ha avuto l'islam nei confronti di queste creature che se voi andate a osservare comunque è molto netto molto particolare soprattutto se noi vediamo la jahilea cioè il periodo pre-islamico essenzialmente questi jin appaiono come delle creature intanto non per forza cattive non per forza malvagie a differenza del passato ma poi come delle creature che tutto sommato è abbastanza facile mettere in tranquillità o addirittura convertire e basta veramente poco perché basta recitare appunto una determinata sura con anche magari il cuore nel momento giusto eccetera e questo jin se addirittura non si convertirà all'islam diventando nostro alleato quantomeno non ci darà più fastidio e questo è un modo molto comodo per evitare invece delle cose ben più astruse ben più strane come il classico ah c'è il mio figlio che è posseduto dal jin vado dalla maga che gli fa l'incantesimo che poi magari gli taglia un braccio gli mette una polvere strana in faccia non lo so però diciamo in questa maniera qui è meglio ancora perché io leggo un versetto del corano che sicuramente non può farmi male mi può servire solo a ricordarmi e tutto per magia sparisce e io penso francamente che sia più in quella direzione non sto dicendo che io non sto dicendo che non esistano i jin attenzione questo io non l'ho mai detto però è chiaro che rispetto a delle figure come possono essere gli angeli il credere ai jin può essere diciamo un po' più complicato ai giorni nostri perché si entra tutto in quel mondo del paranormale che per carità è presente perché se uno non è credente non crede al paranormale però se non crede al paranormale è difficile essere credente diciamo così almeno un po' ci devi credere però l'ho sempre vista con una figura un po' strana un po' particolare e quindi proprio per quello mi sembra una spiegazione che abbia senso in sostanza è un po' come quando un paese legalizza una droga sta dicendo io ti permetto di utilizzarla non dico che appunto è vietata completamente però tu la utilizzi in quanto poi sottostai le mie regole quindi in sostanza un trucco per tirare in casa e legiferare su e penso francamente che sia questo detto ciò se uno ci crede ci mancherebbe altro come ho detto il Marocco che dove continuo ad andare io è il paese dove queste figure così come la magia eccetera è proprio più palese più diffusa più importante e concluderei appunto facendovi invece una postilla sul come anche se arrivati a immaginare il genio della lampada che per essere chiari è lo stesso o è la stessa identica cosa paro paro questo in realtà deriva da come al solito una leggenda di Le Mille e Una Notte Aladino è la lampada meravigliosa anche se c'è da dire che questi Jin e gli Ifrit non sono presenti solo in quel racconto lì anzi sono presenti in moltissimi racconti diversi e poi anche in questo però in quello effettivamente c'è la caratteristica della lampada nella quale sembra che in questa lampada magica venga rinchiuso questo Jin e questo Jin per essere poi libero debba esaudire questi tre desideri classico famoso e da quell'episodio in realtà si è costruita tutta una letteratura sopra facendo apparire i geni come sempre quelli della lampada come sempre queste figure un po' strane un po' particolari però è essenzialmente dovuto a quello il genio di per sé anzi come mi ricordo io per lo più abita quasi di luoghi desolati cioè non è il tipo di persona che si mette il tipo di essere che si mette dentro la lampada eccetera per fare come i ricordi come i cinesi che mettono i tartarughe lo mettono il Jin a me è proprio così anche perché il Jin può essere sia diciamo accondiscendente nell'obbedire sia meno e poi vabbè diciamo c'è anche un po' di magia che non dovrebbe esserci la roba della lampada fatto sta questo è più o meno tutto quello che c'è da dire forse mi sono dimenticato qualcosa però in quel caso vi invito a leggere il nostro articolo a leggere il mio articolo su Medio Oriente e Intorni perché di quello parlo ed è sicuramente molto pieno molto esauriente eccetera e niente noi ci vediamo alla prossima l'ultimo episodio di questa settimana sarà relativo agli angeli vi parliamo di quattro angeli principali Israfil Mikhail Jibril e Azrael che è invece l'angelo della morte che non esiste questo tra l'altro nel mondo occidentale cioè esiste ma non è un angelo comunque niente alla prossima trovate tutto su Facebook Instagram si Facebook Instagram Youtube Spotify chi più ne ha più ne metto e sul nostro sito se condividete l'articolo eccetera se condividete il post cioè il video il podcast ci fa solo piacere anche perché pensavamo che Instagram fosse più d'aiuto invece Instagram non aiuta per niente quindi tutto è gradito grazie mille e alla prossima daje grazie a tutti Grazie a tutti.